Oggi qui a Montesilvano siete riuniti per parlare di quelle che sono sicuramente la formazione dei quadri sindacali all'interno delle scuole, un appuntamento importante comunque visto che l'inizio dell'anno scolastico è appena iniziato. Noi di solito ogni anno riuniamo i nostri rappresentanti sindacali presso gli istituti, le cosiddette RSU, per dare un indirizzo di formazione, di conoscenza, di informazione anche per un ruolo molto importante che è quello di rappresentanza del personale che è importante anche per la conduzione giusta di un istituto scolastico, cioè una collaborazione fra l'amministrazione rappresentata dal dirigente scolastico e le parti sindacali per tutte le varie questioni che attengono al personale e all'organizzazione. Un appuntamento che arriva dopo la pandemia e che ha messo in luce tante difficoltà. Esattamente, è un momento particolare quest'anno perché si è tornati tutti quanti in presenza nelle scuole, diciamo ci sono state delle situazioni difficili in questi due anni, adesso speriamo che finalmente si possa, qualche problema rispetto alla pandemia voglio dire c'è ancora perché stiamo notando un aumento di casi e questo speriamo che non sia gravi, ma tutti teniamo ad una scuola in presenza che possa dare insomma anche ai ragazzi il senso della normalità. Le difficoltà sono dettate anche al fatto che il personale è carente. C'è una grande emergenza in questo momento che non ci si aspettava, è quella della carenza del personale amministrativo e tecnico e ausiliario, cioè i collaboratori scolastici. Molti pensano che i collaboratori scolastici siano in fondo una cosa abbastanza relativa e non è così perché una scuola non riesce a funzionare senza i collaboratori o il giusto numero di collaboratori perché loro hanno anche il compito di vigilanza, oltre che quello dell'igiene dei locali. Ci sono tantissimi istituti nella nostra regione in modo particolare che hanno carenze grandissime su questo aspetto e francamente non sappiamo come dobbiamo superire a questo problema che è, ribadisco, molto urgente.